Un pesarese di 46 anni già noto le forze dell'ordine per reati contro il patrimonio è stato denunciato all'autorità giudiziaria per minacce. L'uomo alla guida di un furgone nella mattinata di martedì scorso a seguito di una mancata precedenza con un automobilista cinquantenne di Fano all'altezza della rotatoria di Ponte Metauro si è lanciato al suo inseguimento e dopo averlo raggiunto lo ha minacciato pesantemente e gli ha puntato contro una pistola di grosse dimensioni e poi è ripartito alla volta di Pesaro. L'automobilista terrorizzato ha raccontato tutto agli uomini del commissariato di Fano che si sono messi subito sulle tracce del furgone e dopo poco lo hanno rintracciato e bloccato. Nel furgone nascosta tra i due sedili gli agenti hanno ritrovato l'arma che in realtà era un modello in plastica a cui era stato tolto il tappo rosso. Gli agenti del commissariato fanese inoltre hanno rintracciato due autovetture rubate, una Polo nei pressi della stazione ferroviaria di Fano, trafugata a Fabriano nei primi giorni di agosto e servita per un furto in abitazione ed un furgone Fiat Fiorino rubato in un cantiere edile a Bellocchi a luglio con al suo interno ancora la refurtiva e per quest'ultimo sono stati denunciati a piede libero due fidanzati per il reato di ricettazione. Altri controlli hanno portato a denunciare sempre per ricettazione un marocchino di 50 anni, residente alla Gimarra, perché è trovato in possesso di un telefonino del valore di 700 euro rubato all'interno dell'ospedale Santa Croce di Fano.